amici del portale del verde buongiorno ben ritrovati oggi siamo di video e ne stiamo girando veramente tanti siamo qui presso osi vivai piante siamo in provincia di chieti e siamo insieme a luigi che ci sta presentando alcune delle piante che si possono trovare qui nel suo vivaio e oggi ci presenterà l'agapantus che è una pianta molto amata da noi italiani è una pianta molto particolare è un po al confine tra gli arbusti e le erbace perenni infatti è una pianta rizomatosa cioè questa è una pianta che al suo interno sottoterra un rizoma come le calle come le calle come le calle e questa noi che noi vediamo la parte aerea sono semplicemente delle foglie mentre il rizoma quindi tra il fusto e sottoterra e le radici escono dal fusto che sono sottoterra questa pianta è una pianta di elementare coltivazione basta che sia un terreno molto fertile e una giusta quantità di acqua dopo fa tutto da sé si riproduce si diffonde si moltiplica o mentre la sua dimensione senza cure particolari non ha malattie ma soprattutto ci regala nel mese di giugno delle fioriture spettacolari perché dall'oggi al domani vediamo emergere dal centro del e questi sono gli ultimi fiori perché adesso siamo a settembre c'è settembre un fiore un c'è uno lì uno lì però ormai sono nato lì per puro caso un fiore abortivo che la pianta ogni tanto ha tirato fuori per chissà quale motivo a giugno avremmo avuto tutti i fiori belli alti sono fiori composti da diverse corolle e di diverse noi abbiamo diverse varietà in coltivazioni allora l'agapandus ha diverse varietà ci esistono diverse varietà di agapandus quella fiore bianco quella fiore azzurro con le foglie grandi quindi agapandus africanus e agapandus africanus albus albus quello bianco ma ci sono anche altre varietà più piccole di più piccole dimensioni quindi più contenute più adatte ai vasi più adatti ai nostri terrazzi ai nostri balconi hanno foglie e fiori tutti ridotte in scala e c'è anche un piccolo cambio della tonalità dell'azzurro più o meno azzurro più o meno tendente al viola più o meno blu sono gli agapandus mini quindi il blue baby agapandus rotterdam agapandus di altre varietà che sono ormai sempre più stimolate al miglioramento genetico perché sono molto apprezzate per i terrazzi l'agapandus invece che usiamo in giardino è l'agapandus africanus normale che è quello celeste è un agapandus africanus albus che ha fiori bianchi dicevo una pianta molto semplice molto elementare nella coltivazione non ci chiede veramente niente possiamo metterla in terra o deve stare per forza in vaso la pianta si adatta molto bene a stare anche in un vaso però dobbiamo tenere presente che quando la pianta accestisce cioè aumenta il suo volume cresce poi soffre in un ambiente circoscritto dal vaso per cui la sua vocazione è quella di essere in piena terra quindi per in vaso per qualche anno ma poi va messo in piena terra perché si espande con le radici ma proprio questa espansione ci dà l'opportunità di riprodurla nel senso che questa espansione di radici ma che sono solo dei rizomi ci dà la possibilità di dividere questa pianta quindi di moltiplicarla per divisione qui abbiamo un esempio di piante che io quest'anno ho diviso ne ho create altre di piante quindi si divide la pianta madre in due o tre pezzi e poi questo è preferibile farlo in piena estate poi si mettono negli altri vasi e queste saranno pronte l'anno prossimo l'anno prossimo questi avranno i fiori come le hanno avute l'anno precedente queste qua benissimo allora abbiamo affrontato anche l'argomento agapanthus qui insieme a luigi abbiamo visto che essere una pianta abbiamo visto anche molto facile così la definisce lui perciò che non ha bisogno di troppe cure e soprattutto ci regala delle fioriture stupende nel mese di giugno alessandro luigi e quel fiore viene chiamato abortivo giusto perché è un po strano quindi di agapanthus vi saluto noi vi rimando al prossimo video ricordate di mettere un bel pollice ciao alla prossima ciao 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 ciao